I saluti vanno per queste persone Buongiorno a tutti, spero come sempre alla grandissima Oggi ragazzi video super speciale, era un po' che non facevo sfide E vi porto un 1 vs 1 insieme al mio amico Gigi Link qua sotto in descrizione, andatelo a trovare E faremo la no scoop challenge direttamente dentro il lago Non potete capire la difficoltà di questa sfida Però ci siamo divertiti un casino Ovviamente chi perde questa sfida dovrà comprare la skin leggendaria, la valchiria all'altro Io avevo già intenzione di comprarmela però se me la paga lui ancora meglio Spero di non dover pagare due volte la stessa skin Comunque guardatevi questa sfida Mi raccomando fate scoppiare il bottone del like Perché se vedo che vi piace un casino questa serie di video Ve ne porterò altre di sfide insieme a Gigi o magari insieme ad altri youtuber E faremo la rivincita sul canale di Gigi Magari con un altro giochino Perciò io ora vi lascio il video e mi raccomando mettetevi super super comodi Perché per guardare questa sfida dovete stare comodi Prendete la vostra coca cola e popcorn Ed ora si, come sempre Let's go! Ok ragazzi Quindi ci siamo Sono qui con Gigi Dall'altra parte del mondo Che volendo potrei cerchinarlo Dall'altra parte del mondo Ciao raga Ed oggi Come vi ho detto Partiremo con questa sfida Ed è interessante perché Chi perde lo sai che deve regalare la skin all'altro La skin leggendaria all'altro Vabbè E tocca quindi scioparne due Perché tanto tu la scioperesti comunque no? Spero di... Sì però Non ho i soldi anche per te Ho solo per la mia skin Porca miseria Ok dai Facciamo meglio di tre Ok Il primo che arriva a tre punti Vince Perciò via Valgono solo rampini E i tre caccia che abbiamo E i cecchini Esatto Perfetto Dai Partiamo 3 2 1 Let's go Vamos Chissà quanto ci mettiamo Proviamo da qua Mamma mia Oh Non è vero Addirittura Oddio è difficilissimo Il caccia poi non ha neanche il puntino C'è il caccia il cecchino Eh no il cecchino normale no Il caccia non tuggire neanche body Ciao qua Ma come no Prendiamo È impossibile È impossibile C'è un casino a ricaricare sto roba Eh sì il bar è successivo Io sono finito fuorissimo Ah no 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 non sono finito fuori Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ormai sto ricaricando Ci sono Faccio così Così Ma fa Qui sono andato vicino Ah ecco di qua Mamma mia Sto prendendo il ritmo Sto prendendo il ritmo Ricarico tutto No ma è qualcosa di tipo impossibile Tre ore dopo No Sto finito sull'isola Oh my gosh Anche io Questo lo ho visto vicino Non mi è piaciuto Guarda se mi tengo basta Vabbè la cosa bella è che io non riesco neanche a girare bene come muovermi Perché ti spara talmente in alto No ho finito i 15 cose Oh No Eccoci qua Questa è questa No Porca m***a Col caccia è vero Eh t'ho preso col caccia Porca m***a Comunque è vero C'è diciamo con l'aiuto del rampino T'ho preso Eh sì Ma Vuoi stare Ti potrei dire la stessa cosa E pure è che abbiamo ritmi diversi Oh Eh sì è vero Dai perché siamo Porca m***a Spesso provo a prendere io il tuo No niente Troppo difficile Non posso Adesso mi avvicino Con calma Ok ok Ti ho ti ho Nooo Vuoi recuperare la mia roba No No come facciamo Aspetta 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 Ho un'idea Ho un'idea Sembra ma ho un'idea Non ci credo Non ci credo Va bene 1 a 0 1 a 0 Va bene Ripartiamo 3 2 1 VAMOS VAMOS Face to face Face to face Oh my god Aia Nooo Eh ma col cecchino che non c'ha il mirino è troppo difficile Eh sì Mamma mia C'è più randomatica la cosa Eh sì Infatti le uniche due volte che ho preso è stato Oh nooo Oh abbiamo preso il ritmo Abbiamo preso il ritmo Stai fermo Stai fermo Ti seguo Iiii Dei sei dead Sei già lontanissimo Vammi ricaricare questo Ma sì ma te lo dite Non riesco a gestirmi bene Cioè in realtà vorrei tipo avvicinare Ma la mia persona ci continua ad andare di là Oh nooo 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 Porca miseria Stavo col barret in mano Oh shit Nooo Com'è possibile che non ti ho preso? Eh Nooo Ci siamo pure scontrati Sì no ci siamo scontrati Infatti è solo Non ti ho preso Ma Sì Bella 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 Che mi hai preso col barret Sì Eh ci sta per forza Va bene Uno a uno Partiamo tra tre Sì Due Uno Vamos Round three Eh la mano Da Dico guarda si entra qua Oh Nooo Arriva sta arrivando Sta arrivando Mannaggia Oh 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 Lo caricare Lo caricare Vediamo 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 Viene Oh Oh Viene 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 Come here Morca miseria Sto pensavo di aver spreso Sta ricaricando No Dove sei Stiamo perdendo di vista Sei qua Oh ci siamo colpiti Che pizza Da lì vicino Madre È difficilissimo È troppo difficile Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Non ci credo Come abbiamo fatto Non lo so Lasciamo in pace No 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 Ho finito i colpi Come hai finito i colpi Ho finito i colpi Ho finito i 71 colpi Aspetta Te lo vedo No dove vai tu Un bel rampino Opps Annaggia la miseria Impossible Ormai questo triplo cecchino Tieni vieni qua Compia Compia No no si si va un metro stavamo attaccati stavamo porca miseria stavamo attaccati vittoria vittoria oh aiuto è la tattica perchè vai non ti vedevo più oh no è la tattica attenziona perchè non ti vedevo più ok scendan eh stavo rigarigando scendan perf adesso arrivo faccio vedere aaaaaaaaaa oh come ne hai preso oh porca miseria porca miseria col video me la devo rivedere per forza qua l'ho preso troppo bene mi hai preso che combo ho fatto porca miseria va bene io direi che per oggi possiamo finire qua diciamo che la prossima volta ti vedremo giocare con la skin valchiria esattamente oh my god ragazzi se volete una rivincita magari con un'altra sfida o con la stessa magari si e fatemi vedere con i vostri pollici in su ma tanti tanti perchè gg è un ospite speciale perciò ci rivediamo sul suo canale la prossima volta yes e niente grazie gg per la skin eh di niente guarda grazie a te per questa sfida guarda ahahah maledizione spero che vi siate divertiti ci vediamo la prossima volta fate i commenti per i bravi yeah ragazzi ciao 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 ciao